È settembre e questo mese ti presentiamo l'ortensia paniculata. Originaria del Giappone, è una varietà di ortensia meno conosciuta che può stare anche al sole. Ci regala una copiosa fioritura in piena estate. Resistente al freddo, l'ortensia paniculata si adatta benissimo al nostro clima invernale, diventando così un'ottima scelta per abbellire i nostri giardini. Vuoi sapere come coltivarla? Iscriviti per ricevere la scheda di coltivazione e conoscere le prossime piante del mese.